Oggi parliamo di un'altra sfiziosa caratteristica dei CSS3, le trasformazioni 2D. Queste, come suggerisce il nome, permettono di applicare traslazioni o rotazioni o effetti di scala, rimpicciolire e ingrandire, o di inclinare, rendere obliqui, diciamo così, gli elementi, stirarli un po' in senso obliquo. Il termine corretto poi vedremo è skew in inglese. Il quadrato con dentro la scritta che vedete l'ho ottenuta con un div che ho un po' ruotato e un po' traslato rispetto alla posizione che avrebbe avuto di suo. E la stessa cosa ho fatto, ma con diversa traslazione e angolo di rotazione, anche al paragrafo che è contenuto nel div con la scritta ciao. Ecco la paginetta in partenza senza gli effetti 2D applicati. Nel body un semplice blocco div con dentro un paragrafo. Nello style, per il momento, la dimensione del testo del paragrafo, font size 100 pixel, e larghezza altezza per il div e un colore, un bel rosso per il background, per renderlo evidente. Lo spazio bianco prima del div è dovuto proprio alla generosa dimensione del font, tant'è che se dovessimo andare ad azzerare i margini per il paragrafo, diventi evidente 0 pixel, e che in questo caso la scritta si appiccicherebbe al bordo della pagina. Però, tutto sommato, mi fa anche comodo che sia un po' spostato per rendere più evidente l'effetto di traslazione e rotazione. E naturalmente tambierebbe qualcosa anche diminuendo, dimezzando, ad esempio, il font. Iniziamo con il traslare verso destra, di un centinaio di pixel, il div, e naturalmente anche tutto il suo contenuto. Mi sono messo qui, quindi nella regola per il div, e aggiungo, anteponendo un prefisso, visto che il mio editor usa come anteprima di fatto l'engine, di Firefox, di Mozilla, il prefisso, che caratterizza, come abbiamo già visto tante volte, il supporto a quelle caratteristiche del CSS3, ancora non entrate proprio nello standard, a pieno diritto. Che web? Mods. Stavo facendo un mostruoso incastro tra il mods e il webkit di Chrome e Safari. Mods, Transform, due punti, e poi, per la traslazione, Translate, il metodo Translate, e devo dare uno sfasamento orizzontale e verticale. Oppure, e cominciamo con questa versione, che è un pochino più semplice, limitarci allo spostamento lungo l'asse delle X, mettendo Translate X, e un solo valore come parametro. avevamo detto 100 pixel, eccoli qui. Sto per salvare la pagina, tenete sott'occhio il div, ma lo scatto in avanti verso destra di 100 pixel è più che evidente. Abbiamo anche la controparte per le Y. La X è ritornata 0, e lo spostamento è questa volta avvenuto lungo l'asse verticale, ricordando sempre che le Y crescono dall'alto verso il basso. Quindi, in alto a sinistra, abbiamo lo 0, 0, e aumentando positivamente la coordinata Y, si scende. Ma, eravamo partiti dal Translate che combina le due cose. 100 lungo l'asse delle X, e 100 per le Y. risultato, beh, vedremo spostato verso destra l'attuale quadrato. Sostituiamo ora il metodo Translate col metodo Rotate. Sono molto intuitivi, basta pensare un minimo in lingua inglese. Rotate di non pixel, perché non avrebbe senso, si ruota di tot gradi, so, 45, e poi Deg, Degree, abbreviazione di gradi in inglese. Eccolo qui. Semplice. Sì, so cosa state pensando. E la risposta è sì. Si possono combinare insieme più trasformazioni. Quindi, ruota, e poi trasla. Translate. Facciamo X di 50, no, troppo poco, 150 pixel. 150 pixel. Notate che non ho messo né virgole né punti e virgole, eh. Ok. Attenzione, sembra che sia abbassato. Per quale motivo? Perché una volta che l'elemento è ruotato, il quadrato iniziale non è più quello che viene preso come riferimento, per cui è un pochino più complicato. Tra parentesi non è commutativa. Cioè, se prima, se non ho capito male, se prima trasliamo e poi ruotiamo, non dovremmo ottenere, quindi se rimane lì dove, vuol dire che mi sono confuso, altrimenti vuol dire che effettivamente dipende l'ordine, eh. Non è indifferente l'ordine con cui applichiamo le trasformazioni. Salvo. Ecco, vedete. Ma, ed è notevole, posso anche manipolare, traslare, ruotare in modo indipendente gli elementi contenuti in altri. Detto in altre parole. Posso ruotare anche di un valore diverso, di gradi, questo ciao. Ho aggiunto mod transform qui, di 120 gradi. Vediamo il risultato. Un po' esagerato. Ecco, con 30. È chiaro che poi devo anche lavorarmi ai fianchi il tutto, calcolando correttamente anche le traslazioni, se l'idea era comunque di far rimanere il ciao all'interno dell'area rossa. Capito il giochetto, possiamo anche fare scintille, come in questo effetto di rotazione continuo. L'idea di fondo è abbastanza semplice. Ho impostato con la funzione setinterval un continuo richiamo di una funzione che incrementa un contatore di 3, 4, 5, quelli che volete, gradi alla volta e poi modifica la proprietà mod transform con il valore generato. E poiché a causa della novità delle proprietà mod transform non sono riuscito a sfruttare il metodo getElementById per modificare lo style, ne approfitto anche per introdurre anche se siamo nella playlist dei CSS3 un piccolo esempio di utilizzo della famosa libreria jQuery così magari vi convinco dell'utilità del seguire anche quella playlist ve la consiglio molto. Infatti nella sezione Head ho agganciato linkando al deposito su internet che contiene il codice j-script della libreria la versione in realtà non è neanche l'ultima per pigrizia ho sempre la 1.6.1 che per quello che devo fare basta e avanza. Attenzione a non dimenticarvi di questa chiusura perché in realtà essendo un attributo l'SRC che va specificato come tutti nel tag di apertura non dovete dimenticarvi appunto di questo particolare e subito dopo il barra script lo script che ottiene l'effetto l'ho messo appena prima della chiusura del body per essere sicuro che tutto il DOM sia già stato costruito e inoltre come effetto collaterale abbiamo che la pagina verrebbe caricata più rapidamente gradi è la variabile che incremento ogni volta lo vedete qua sotto di 5 e che utilizzerò nell'assegnamento che va a modificare il valore della proprietà mod transform per il paragrafo function ruota è quella che verrà richiamata all'infinito dal set interval che si può già entra a vedere qua sotto ogni 50 millisecondi viene chiamata che cosa fa la function ruota incrementa di 5 ovviamente il valore è puramente casuale la variabile gradi questa poi viene utilizzata nel comando ecco qua questa cosa che per chi non ha mai visto jQuery è una chicca è anche una stranezza questo è quello che sostituisce con jQuery il comando document.getElementById e tra parentesi poi metteremo l'id oppure il getElementByTagNames dove metteremo effettivamente il p beh insomma è abbastanza evidente come la sintassi sia molto più compatta tra parentesi a differenza dei vari getElementBy qualcosa jQuery permette di specificare qua come selettore una marea di cose praticamente gli stessi selettori che avete imparato ad usare con i CSS e questo è una comodità nel senso che a quel punto sapreste già come sfruttare la potenza dei selettori di jQuery se conoscete quelli dei CSS3 ma anche CSS non 3 anche quelli precedenti per modificare il valore di una proprietà dello stile di un elemento anzi in realtà lo andrebbe a fare per tutti i paragrafi eventualmente presenti sulla pagina con la notazione punto si accede a questo metodo questa funzione punto CSS e diamo due parametri il primo è il nome della proprietà di cui vogliamo cambiare il valore e il secondo è il valore sempre tra apici beh questo è facile vogliamo modificare la mod transform e assegnare una rotazione composta da una parte fissa quindi questo primo pezzettino di stringa rotate la parentesi poi concateniamo il valore quindi col più il valore che ha in questo momento la variabile gradi quindi 0 anzi comincia con 5 10 15 e così via più manca la parolina deg e la parentesi chiusa e infine il set interval e il risultato è appunto quello che è da un po' che vi state godendo semplice ed efficace dimenticavo un piccolo particolare prima o poi questo gradi supera abbondantemente i 360 evidentemente se dico ruota di 365 è come se dicessi ruota di 5 quindi c'è una specie anzi c'è una rimetica modulo 360 prima o poi raggiungendo il maxint il massimo valore intero possibile qualche problemino passandone negativi forse salterebbe fuori beh al limite basterebbe con un if controllare che si è superato 360 allora si rimette prima la variabile a 0 insomma ecco non è un grosso problema proseguiamo con un altro effetto l'ingrandimento o il rimpicciolimento quindi il fattore di scala l'ho aggiunto qui dopo rotate scale 1 1 vuol dire non cambiare nulla di per sé ho fatto solo per dimostrare questo caso limite vuol dire la proporzione sulla stella x è rimasta ancora quella 1 1 e 1 quindi se salvo non cambia proprio nulla ma guardate posso dire non so 50% in più nella dimensione x oppure raddoppio raddoppio sia la x che la y diventa il quadruplo come eccolo qua riuscite ad immaginare cosa succede indicando un 4 come fattore di scala per le x è un 0.2 sulle y beh verrà molto schiacciato perché verrà allungato lungo l'asse delle x e rimpicciolito lungo quello delle y salvo eccolo qui al volo vi dico provate voi che esiste anche la versione scale x ovviamente soltanto con un parametro per la x e la scale y esattamente come abbiamo visto per la translate ed infine vediamo rapidamente lo stiramento con skew eccolo skew che può essere applicato con skew x soltanto sull'asse x con skew y grande solo quella delle y vuole come parametri dei gradi quindi la versione più completa skew vuole sia la x che la y come dimensione a caso 20 gradi 15 gradi e risultato è quello che vedete ho trasformato di fatto quel quadrato in un rombo e con questo avrete finito questa lezione decisamente carina a mio parere c'è da divertirsi provate a implementare qui nella funzione ruota un poto di questi effetti in contemporanea e il divertimento direi che è assicurato alla prossima un po' Grazie.